Proseguiamo con il telegiornale Autonomia e Democrazia, dove sta andando l'Alto Adige. Di questo si è parlato in un incontro al Circolo della Stampa di Bolzano. Un momento di riflessione e confronto, quello proposto dal forum democratico di Barbara Repetto e Alberto Stenico, sul rapporto tra autonomia e democrazia nella realtà sud-tirolese. Recentemente abbiamo visto con le elezioni comunali questa mancanza di interesse verso il voto. 11.000 persone che non sono andate a votare è stato un fatto assolutamente eccezionale e da lì abbiamo intrapreso una riflessione proprio su come si può migliorare in termini propositivi. Per il forum democratico questa disaffezione è la conseguenza ad una politica che privilegia le poltrone rispetto agli interessi della comunità. Noi abbiamo visto che chi entra nel cosiddetto giro di potere poi non ne vuole più uscire e se nel momento in cui è costretta a farlo comunque vuole rientrarci attraverso qualche spazio di sottogoverno. Tutto questo induce anche la gente a sentirsi esclusa da quello che è il potere, la gestione del potere nella nostra provincia. Nella sala del circolo della stampa intitolata a Piero Agostini in via dei Vanga a Bolzano si sono ritrovati su invito del forum democratico anche Rosetta Fronza docente di filosofia e il professor Francesco Palermo politologo docente di diritto all'Università di Verona. Si stanno sperimentando in diversi posti nel mondo forme di compensazione dei deficit della democrazia rappresentativa attraverso altre formule che possono essere strumenti tecnici, possono essere forme di deliberazione popolare, altre modalità di coinvolgimento delle persone, alcuni esempi li facciamo anche qui questa sera e in realtà non c'è una formula magica naturalmente. L'unica cosa importante è non sedersi sugli allori e non pensare che il sistema che c'è possa continuare in eterno.